La legge Basalia ha migliorato in maniera veramente molto significativa tutte le prestazioni nell'ambito della salute mentale e che l'Italia è una delle nazioni più avanzate al mondo e mi permetto di dire il Veneto e anche Verona col contributo dato dall'università e dall'azienda ospedaliera siamo leader nel mondo. Certo la salute mentale è una sfida sempre aperta e occorre che l'assistenza per le persone affette da disturbi psichici venga continuamente adeguata alle nuove esigenze e su quelle abbiamo spazi di miglioramento abbiamo spazi di miglioramento per quanto riguarda l'attenzione verso il disagio giovanile l'attenzione verso quelle forme iniziali di disturbo che spesso vengono trascurate e che invece potrebbero ottenere dei risultati molto importanti se trattati precocemente. Nel 2017 a esprimere preoccupazione furono alcuni professionisti in Veneto e associazioni di genitori per l'accorpamento di varie ULS con il rischio di non andare più sul territorio dei servizi adeguati. Allora l'accorpamento delle ULS non è un male in sé il punto è farlo e mantenerlo nel tempo essendo estremamente attenti a che la popolazione abbia dei servizi di prossimità quindi facilmente raggiungibili, abbia la possibilità di prese in carico che preservino la continuità delle cure quindi evitare quella frammentazione che purtroppo a volte vediamo anche nel sistema sanitario in generale in cui l'individuo non è più trattato come una persona con la sua storia ma diventa un numero. In questo senso un'attenzione costante a che il processo non degeneri e incluso il processo di unificazione delle ULS è assolutamente raccomandabile. Secondo lei servirebbero più strutture sul territorio anche a sostegno delle famiglie dei malati psichiatrici che spesso sono molto impegnativi anche per le famiglie? Allora innanzitutto io penso che il supporto ai familiari sia una parte integrante del processo di cura dei pazienti affetti da disturbi psichici che i familiari abbiano bisogno di vicinanza, abbiano bisogno di un supporto anche per loro perché il carico generato dall'avere un proprio caro affetto da un grave disturbo psichico è enorme, la letteratura, le ricerche, anche quelle fatte da noi attivamente a Verona lo dimostrano con grande chiarezza. Per quanto riguarda i luoghi diciamo io penso che l'ideale sia lavorare perché venga restituita ai pazienti la possibilità di vivere nel loro contesto naturale è però evidente che nel contesto naturale ci deve essere chi vigila che il carico appunto per i familiari non sia troppo grande che ci sia una grande attenzione nell'avere anche soluzioni alternative quando questo è necessario.